Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Grazie mille ragazzi, un bacio, buona serata, ciao Ecco qua, è buono Sono però stiloso, molto bello con questi giornali Gavronsky, giovane ragazzo italiano molto soddisfatto del servizio che ha appena ricevuto Grazie, cittadini Però poca, 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 non troppa Bella Gab, ma quanto cazzo sei fresco oggi? Del bacino Faccio un video chiamato a Cicchella Ma non c'è bisogno Che cos'è questo vestito? Spieghiamo che cos'è questo vestito Questa è una tutina di scena Adesso David mi rispondi, io gli dico siamo in diretta Twitch dal Samsung David Sia, sono in dire... perché non ti vedo? C'è non si può, non si può, è schifo, è tutta una merda Che schifo Pizzino Che cari Non guardate ragazzi No ma Twitch guarda tutto, Twitch guarda tutto purtroppo Ehm... vabbè, bello, bello, bello E quindi una stima E quindi una stima Vuoi farci una stima? Allora, se non... Ma... Per questo l'ho messo free Perché dipende da quanto ci sto dietro io Se... Sempre mi prende... Ma... Ci siamo, diciamo, presi uno stop prima della vacanza Per fortuna Flavio, non me ne frega un cazzo! Ma dove cazzo sono i moderatori? Se uno spamma lo stesso messaggio per cinque volte dovete sospenderlo Dio di quello stramaledetto porco Ok? E' vero che qua non è bannato niente Questa è immortalare il momento adesso Si è chiaro E che cazzo Si può Dio cristante maledetto To the... It's a move wave Delle... Lucky Star Cross Le prendo anche... No, posso così Detto 2012 Oh... Destra 8... Centro... 10 destra 8 Cruce Baldà Guarda il... Quella centrale sembra la mano Vabbè Volgare Volgare Potremmo aprire una grande parentesi su questa cosa Si, una grande parentesi Non lo faremo Enorme Non lo faremo Ragazzi in mezzo fanno... Ragazzi in mezzo fanno un fio E' un 6 ma si chiama Fubbe 30 30, 2 10, 10 Ma chi sono si fanno? Stai rovinando tutto Fubbe Parlamato di me? Si, stavamo parlando di te Ovvero? No, non si può dire Bello, veramente bello E... Posso chiederti quanti soldi fai con OnlyFans al mese? Allora dipende quanto ci sto dietro io Giustamente Però... Se voglio anche... Mille al giorno per dire Ancora Dalla casa Non guardate ragazzi Eh no ma Twitch guarda tutto Twitch guarda tutto Confermo guarda è l'unica volta che sono d'accordo con te Guarda faccio un applauso Applauso Hai ragione Gabbo Hai ragione Gabbo Una domanda Voi fatela la la con grande Eh eh... Con le butelle ma... Con le butelle? Ma voi siete... Venete? Venete! Ma tomare homo diocan Ma tomare homo butei Tomare homo porco diaz Porco dio si dice Un abbraccio Un abbraccio dai vieni qua Ma hai... Eh ti stai chiedendo una cosa che non ci trovo No la sigaretta è Giabbia Abbracciatemi tutti Venite anche voi ragazzi Dai vieni 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 Non so se ne sono sicuro Vieni 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 Abbraccio di gruppo ragazzi Dai anche te Dai Prima abbraccio di gruppo Poi tutti nel letto Si A fare il gruppo Ciao Rock Fa' puro porco dio Ok raga siete alternativi Siete figli Vuoi Cosa capezzolino Vuoi Toccarmi il capezzolino No 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 ma magari Ma no Eh mi sa che voi dovete eh Concentrarvi sull'alcol Ciao Ciao E' incredibile comunque bro Io sono una calamita per disagiati Sono Sono Ci sta Eh capisci Sono il re bro di 104 E quindi attiro altri 104 Ok Non vorrei ruttare comunque in realtà Ma scusaci per questa richiesta Un po' fuori luogo effettivamente Perché Dicevo che già ho fatto il mio rutto in live È bastato Dato che lo sapete tutti E' vero che tu hai disordito su Twitch con un rutto Ci sei nato così Sei nato Certo sono un toro io Eh Genetica Scusa che sto shot Ho ragione i jeans Scusa però Ehm Mi piace il fiatone Potremmo aprire una grande parentesi su questa cosa Sì una grande parentesi Non lo faremo Enorme Non lo faremo Alice non fai il binder Faccio il binder Cos'è il binder? Oh Vabbè chat carmica Abbiamo un Un gran voto Un gran voto Ci aggiorneremo chat Un gran voto Un gran voto per le signorine Vabbè me l'accollo io Fino a 2.50 Eh fino a 2.50 poi è difficile di salire vediamo Eccolo E non fa schifo Ma non può darlo Mi sa troppo veloce Esatto Stai rimanete qua dentro dai Che abbiamo bisogno di lucrare Sulla figura femminile Ma eh Ve la pari in presto io Facciamo un saluto A David Cicchella Che in questo momento Noi non sappiamo Non sappiamo dov'è Ma David Cicchella È sempre a fare business Io adesso faccio Una videochiamata a Cicchella Ma non c'è bisogno Che cos'è questo vestito? No Ok Ok Grazie Grazie Grazie